Qual è la tua prima impressione da quando sei arrivato a Palermo? Sto molto bene, la squadra è professionista, lavoriamo molto, voglio fare tanti allenamenti e impegnarmi a lavorare. L'allenatore è molto gentile, è simpatico con me, mi parla molto, cerco di fare quello che mi dice e non vorrei deluderlo. Vorrei fare da 8 a 10 gol, non vorrei promettere 20 e poi non farne neanche 5, però il mio obiettivo è fare 8 a 10 gol. Sono contento che Zamparini mi dia così tanta confidenza e mi dà molta motivazione questa cosa, però non vorrei parlare qui, ma parlare sul campo e far vedere quello che sa fare. On the field, that's all.